E sui dati del rapporto Svimez arriva anche il commento del Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura che dice che il rapporto parla chiaro. Il Molise, dice Frattura, fa registrare una crescita inferiore solo a quella di Campania e Basilicata. Nessun triunfalismo, aggiunge, la ripresa economica è disomogeneo e ancora insufficiente, ma conferma la bontà delle nostre scelte e premia il lavoro che tutta la Regione ha saputo condurre in questi ultimi anni. Ora...